Siamo qui con Troy Bell. Troy, grazie per essere qui. Era un grande esplorio per Reggio Emilia, cercando di riloggiare e riloggiare, ma non era sufficiente. Quale era la difficoltà di oggi contro Cremona? Siamo giocati bene insieme, e quando stanno facendo giocati, sono una squadra davvero buona, e non abbiamo eseguito bene sulla difesa. È molto semplice, hanno fatto giocati, e non abbiamo avuto i giocatori che avevamo bisogno, ma questo è il basket. Cremona ha messo degli ottimi tiri, e quindi tutto è molto semplice da dire. Tutto è diventato più difficile. Quindi, cosa è prossimo per Reggio Emilia? Perché è abbastanza difficile, da l'altra parte, capire perché Reggio Emilia gioca così diversamente, fuori e fuori. Che pensate? È qualcosa mentale? È qualcosa di solo per l'effetto di altri team? È una buona domanda. Se avessi potuto capire, avessi avuto qualcosa, per sicuramente. Ma non lo so, a volte ciò che avessi avuto i giorni, ma spero che, in questa strada, possiamo essere più consistenti. È quello che speriamo, e è quello che lavoriamo per noi. Quindi spero che questo è quello che possiamo fare. La seconda domanda, cosa pensate che ora il team sarà più concentrato su? L'Euro Challenge Final Four, la rata per la playoff, do you think that maybe this can distract the team and create some confusion on the mind? You know, we have to do both. You know, the club is very ambitious, we know that, and we have to reach both goals. You know, they want to play Euro Challenge next year, I mean Euro Cup next year, and we got to do it. that's the goal, and also we got to get into the playoff, so yeah, we can't focus, we got to do both. That's it. Thank you very much, Troy, and congratulations. Thank you. Thank you. Allora, Troy ci ha detto che loro non possono scegliere un obiettivo, i playoff e le Final Four di Euro Cup naturalmente, di Euro Challenge, sono ovviamente due obiettivi a cui non possono rinunciare, quindi sì, c'è la possibilità che siano distratti dai due impegni, però loro non devono comunque portarli a casa entrambi.